Lo scorso aprile ad abbassare le serrande era stato l'unico supermercato della frazione, per tutti un punto di riferimento per la spesa a chilometri zero. Ed il prossimo 12 ottobre a chiudere invece sarà la filiale di Banca Intesa San Paolo. I residenti di Ricutino sono così tornati ad interrogarsi sul futuro della frazione. Si sono riuniti in un'assemblea pubblica per fare il punto sui disagi che il paese sta vivendo nella sala del centro di aggregazione sociale che si trova nella ex scuola elementare. Attraversare Ricutino adesso significa passare in rassegna una serie di vuoti hanno dichiarato immobili stato di precarietà, numerosi fondi commerciali in attesa di una futura destinazione incerta ma che conoscono già una progressiva svalutazione. Un paese che fino a pochi anni fa poteva vantare tutti i servizi di prima necessità e che adesso sta assistendo al loro progressivo smantellamento accompagnato dall'inevitabile decadenza urbana, economica e sociale. L'intento, concludono, è quello di difendere la qualità della vita in un paese che non vuol ridursi a dormitorio di periferia. All'incontro erano presenti anche due consiglieri comunali, Andrea Gallorini del Partito Democratico e Piero Perticai della Lega.